Coronavirus e smart working PC e cellulare, senza poi contare lo stress e l'ansia, lunghe ore di permanenza a casa, assenza di movimento, di attività sportiva. Sono poche le colonne vertebrali che ne usciranno indenni senza disagi da questo periodo di pandemia. Sono infatti tanti coloro che segnalano sintomi e disturbi legati all'assenza di una postura corretta che a lungo andare, limitando la mobilità articolare, fanno subentrare dolore. Lo dicono i medici del centro fisioterapico Verrengia di Salerno, che per far fronte alle esigenze dei pazienti si sono resi parte attiva di un programma di prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici che per due mesi, gennaio e febbraio, offriranno presso il centro di Via Vietre a Torrione la possibilità di usufruire di un esame baropodometrico gratuito ed effettuare consulti gratuiti con gli esperti in ortopedia, osteopatia e fisiatria. Quindi noi proprio per questo partiremo con questa campagna di prevenzione per i disturbi muscoloscheletrici. In effetti questa campagna partirà con dei consulti gratuiti, da precisare questo, tutti i pomeriggi con il fisiatra che sono io, anche direttore sanitario del centro, con l'ortopedico, l'osteopata. Quindi ci saranno tutti i pomeriggi della settimana questi consulti e è importante anche un esame baropodometrico. Quindi forniremo anche questo servizio il giovedì pomeriggio. Quindi utile questo esame, viene fatto in maniera statica e dinamica, utile quindi per diverse patologie, principalmente patologie ortopediche e neurologiche. In pratica che cosa si va a verificare con questo test? Questo si va a verificare, in effetti si fa un'analisi precisa, molto sensibile del passo. Quindi si è dotati di una pedana, si è dotati di un monitor, di un computer, quindi si fa camminare il paziente su questa pedana e quindi si va a analizzare il passo, come cammina precisamente il paziente, in dentro al caso se è opportuno utilizzare dei plantari. Quindi c'è da dire questo, che l'area muscoloscheletrica è abbastanza ampia. Quindi si possono rivolgere a noi pazienti che hanno problematiche, quindi dalle semplici mialgie, contratture, lesioni muscolari. Quindi entriamo nel campo, ad esempio, della traumatologia sportiva. O pazienti che hanno problematiche alle articolazioni, quindi le classiche artrosinoviti, tendonopatie delle articolazioni spalle e ginocchia. O l'aspetto, un'altra area importante, le problematiche che riguardano la cervicale, il tratto lombare, quindi il classico mal di schiena. In questo caso dovuto o a patologie organiche, però come riscontro io frequentemente in ambulatorio, legato ad una cattiva postura. Quindi cattiva postura dovuta principalmente a fattori o condizioni che la vanno a determinare, quindi una vita sedentaria, l'uso frequente di cellulare, quindi si sta spesso a tronco flesso, oppure la posizione seduta in maniera scorretta. Quindi perciò è importante il concetto di prevenzione, soprattutto per i ragazzi, i ragazzini, i bambini in età adolescenziali, onde evitare problematiche più serie, come una scoliosi su base posturale. Un'opportunità offerta da Centri Virrengia che accompagna un bel periodo, gennaio e febbraio, l'opportunità di poter prenotare, di avere un appuntamento e capire gratuitamente un po' qual è lo stato di salute di questa famosa colonna che ci regge. Sì, basta telefonare quindi in accettazione, chiedere informazioni in accettazione e quindi si può prenotare il consulto con il team, con tutte queste figure professionali, l'esame baropotometrico e non serve altro, quindi è tutto gratuito e forniamo questi servizi ai pazienti, ai nostri pazienti.